riso fa buon sangue bene volevo fare pubblicamente le scuse mi tolgo anche gli occhiali in modo che si vedano gli occhi perché sono stato un ciarlatano cialtrone come sono sempre io però un po di più l'ho fatto per cercare di essere ancora vivo questa sera ma quando si dà una parola bisogna mantenerla io non l'ho mantenuto porto tolle siamo qui 6 settembre in piazza cicce uracchio e volevo fare quello quello che ieri sera doveva fare ma il signore ha deciso così e quindi adesso noi consegniamo la taglia ha deciso così il signore prese il canice lo spezzano consigliamo la taglia consigliamo la taglia a franceschini per la riconoscenza del suo lavoro di 25 anni grazie 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 a tutti gli amici del cabaret gli amici di risolvo con sangue questo andrà in prima sicura prima della serata del montaggio questa questa cosa qua grazie paolo franceschini grazie grazie paolo mancano delle sedie qui muoviti grazie a tutti 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 diventa anche tu un donatore, riso fa buon sangue, presenta Paolo Franceschini e posto tolle buonasera, sentiti qua il pubblico com'è carico, sentite questa parte aspetta tu che sei incredibile, buonasera a tutti, sono sempre lo stesso di prima, mi avete riconosciuto? ultima, tour estivo, ultima serata, porto tolle, poi riprendiamo quest'inverno, ma intanto ci riposiamo un po', il direttore artistico del tour riso fa buon sangue, signori e signori Enrico Cibotto! L'unica cosa che ci mancava intanto, ciao a tutti, ciao porto tolle, sono le veline ma la fai tu, dovremmo organizzarci con le ballerine, faccio anche Michael Jackson fai la musica, vediamo dai, attacca attacca Buonasera amici, buonasera, come state? Ciao porto tolle, avete conosciuto, l'ho sconosciuto Paolo Franceschini, ma sono tutte firme queste? Tutte firme di questo tour che concludiamo stasera, quello estivo, è stata fatta questa camicia, da tutti gli artisti che hanno girato con noi durante l'estate, e anche i presidenti delle Avis, insomma da Trento come hai detto tu, da Trento in giù Guarda che bella, avete visto quante firme che abbiamo tirato su, quindi se volete imparare a falsificare le giustificazioni, lo dico ai ragazzi che vanno alle superiori quest'anno potete iniziare a imparare, io faccio corsi per falsificare la firma dei genitori così se non andate a scuola... Allora, vi dico subito che lui è un cretino Eh, buonasera, sono un cretino Chi non lo conoscesse è un cretino, ma a noi ci piace così perché è così Musica! Giù con le mani voi! Adesso tutti i partenari obbriati Adesso tocca a voi però, tocca a voi! Su i piedi, su i piedi, su i piedi, su portatore, dai, su, su Su i piedi a ballare, dai, su, le mani, dai Portatore, dai, su! Che bellezza! Bravi, bravi, andiamo a tre, andiamo giù Uno, due, tre, giù, basta Penso che ora ve lo racconterà anche lui in un qualche modo Ma è diventato papà da pochissimo E quindi la cosa bella è anche accoglierlo In quanto anche neopadre Nonché un comico, già che sono anni Che a me fa sempre molto ridere E iniziamo a portatore con lui Andrea Vasumi! Ma che entusiasmo! Ma che entusiasmo! Mamma mia! Perché per essere un romagnolo come si deve Dei pesare 90, 100, 120 chili Perché in Romagna si mangia bene Vuoi per la vicinanza del mare Vuoi che come vicino di casa Saluto anche Francesco Amadori Si mangia bene, Romagna Ho provato anche a stare dietro Ho fatto l'analisi del sangue Mi hanno trovato tratti di sangue E lo strutto Che non è bene Che il dottore me l'ha detto Vasumi, devi stare a dieta Hai 900 di colesterolo Porca boia E quant'è il record? Non scassare! Che poi le diete di oggi Dicono che devi mangiare le fibre Sono importanti le fibre Fibra a pranzo Fibra a colazione Fibra a cena Ho mangiato di tanta fibra Che stamattina ho cagato un maglione Non va bene Andare contro mano Senza investirci più Per le strade e nelle vie Perché la tua guida stende Te lo dice con il cuore Il tuo navigatore Grazie Signore e signori Maurizio Prontini Brava Il dito più Non ti impressionare È lui così Dopo va a casa così Che fatica Ciao Alessandra Da dove vieni? Da Oca Marina No! Non è vero Non è vero Sei di Oca Marina? E quindi sei un Oca Marinense Come si chiama? Oca Marinense? No Secondo voi altri Che lavoro A Sarta Ti terrivi a qualsiasi ora Del giorno e della notte E la sia Che ricama Rammenda Cucce Ciao tesoro Ciao Ciao mamma Ma metti sull'acqua Per piacere Sì c'è Aspetta un attimo Che ho da finire Sto lavoretto Pa signora Iole Guarda Mi sono sponciata Guarda E se che è in pirata Cavio Cavio mamma Per piacere Cavio Guarda Guarda Dammi una manda Cavio 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 mamma Cavio Vieni fuori a sangue Vieni fuori a sangue Cavio 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 Facendo loro la fatidica domanda Con chi ha tradito suo marito Pensate Il 90% ha risposto Con l'idraulico Il 10% ha risposto Con chiunque Mio marito è sempre via Fa l'idraulico Però La maggior parte dei maschi Secondo le statistiche Fuma dopo un rapporto sessuale Se le cose stanno così Sui pacchetti di sigarette Non dovrebbe esserci scritto Fa male alla salute Ma come è andata Vecchio maiale A noi serve il braccio Non ci basta solo il dito Ma vi ringraziamo ad uno ad uno Se vi avvicinate al tavolino Quello qui vicino Fai la donazione E' bello che le cose finiscano Perché poi ne ricominciano Sempre le più belle E con riserva buonsangue Sono cinque anni che è così Quindi aspetto con ansia Il sesto anno E finiamo con? E allora Ridi Allora ridi Allora vivi come vuoi E muovi i fili Di un domani Che non hai Allora vivi come vuoi Allora vorrai Ehm Allora vivi come vuoi